Musica Ciao, sono Federico Pellegrino e siamo al passo di Lavazze, sotto un bellissimo sole, dopo una grande nevicata, a preparare i mondiali di lati 2017. La vasta gamma di lenti di ricambio del Tralix mi consente di avere veramente un'ottima visione di tutti gli ostacoli e di quella che è la pista, in tutte le varie tipologie di luce che posso trovare, quindi grazie alla facilità di cambiare la lente, molto spesso in allenamenti un po' ambigui, dove parti col sole ma sai che poi arriverà la neve, piuttosto che sai che andando avanti con la giornata arriverà l'oscurità, mi porto dietro nella borraccia qualche lente di ricambio in modo che possa avere una vista ottimale per tutto l'arco dell'allenamento. Un'altra caratteristica di adattabilità alle esigenze dell'atleta è quella di poter cambiare la lente in base alla conformazione del viso, per esempio io quando scio e quando devo proteggere gli occhi dall'aria fredda preferisco utilizzare una lente XL come questa, però c'è anche la possibilità di utilizzare una lente slim oppure una lente intermedia. Il Tralix grazie alle astine regolabili, a volte che al classico nasello regolabile Rudy Project, ti dà la possibilità di avere veramente un elemento duttile sul tuo viso e quindi la possibilità di utilizzare questo chiale con ogni tipo di cappellino, per esempio nel mio caso, quindi un cappellino leggero come questo, una fascetta che è ancora più fine o un cappello pesante nel caso in cui faccia molto freddo. Rudy Project, elevate your performance.